Stiamo tentando di portarlo pure a... Il Presidente della provincia Eugenio Dorse ha ritirato questa mattina le deleghe ai 12 assessori che fanno parte della sua giunta. L'obiettivo ha detto rilanciare l'azione amministrativa. Oggi io ritengo di avere le necessarie capacità ma anche la necessaria esperienza per poter dare un input diverso alla mia giunta, per poterla migliorare nei propri settori e nelle proprie deleghe, per cui non si parlerà assolutamente di bocciatura contro alcuno ma semmai si può discutere di migliorare, di dare un input diverso per destare un po' di attenzione in più verso quelle che sono le deleghe dei rispettivi assessori. Dorse ha anche annunciato che un po' di assessori non verranno riconfermati ma nessun partito verrà escluso. Uscirà dalla giunta chi non è stato leale al 100% e chi soprattutto non ha dato quel necessario impegno anche di presenza fisica. La mia è una coalizione che si accompagna dall'inizio alla fine. Chi non ci vorrà stare sarà per scelta personale. La nuova giunta sarà ufficializzata secondo Dossi tra 15 giorni. E' più adatto alle tre.